Amici, sono qui con Nolan Bushnell, sono ancora emozionatissima, abbiamo appena terminato un panel, è stato qui cinque giorni ma ci dedica qualche minuto, il padre di Atari, il padre del gaming è qui e ora gli farò una domanda, calma. Nolan, ma cosa ti resta dopo questa esperienza, dopo aver parlato con così tanti appassionati, cosa porti a casa con te? Penso che questa convention, anzi questa festa, sia molto speciale, ogni persona che partecipa, che sia uno spettatore, un presentatore o un'attrice, è qui per divertirsi ed è questo il bello del mondo dei videogiochi, siamo tutti felici. Qual è la formula perfetta per raggiungere successo nell'industria dei videogiochi ma anche in generale, nella vita? Fate sempre cose diverse, cercate di immaginare la direzione che prenderà il futuro e arrivateci per primi. Ok, ok, fantastico, grazie, grazie molto Nolan, grazie. Nolan Bushnell ha guardato e continua a guardare al futuro. Come saranno i videogiochi e che ruolo svolgerà il giocatore futuristico? Se avete qualche idea al riguardo, potreste diventare i suoi degni successori.